Sul rettilineo che porta la curva a Nuovo Monde c'è solo una traiettoria utile. Berà arriva e si affianca. Vi sfida. Siete appaiati. Ma due oggetti non possono occupare lo stesso punto nello spazio nello stesso momento. Berà non leva il piede. La curva si avvicina a voi. Avete forse una crisi di identità. Sono uno sportivo o sono un avversario? Che penseranno di me i francesi se sbatto Berà contro un albero? Levate il piede? Lui passa. Lui vince. Voi perdete.